Do il benvenuto a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e nonché ex Presidente del Consiglio. Bentornato. Grazie, grazie e buonasera. Lei è seduto sulla sedia di Travaglio, non l'ha spazzolata come fece Berlusconi. Non ho avvertito questa necessità. Senta, dopo parliamo anche di reddito di cittadinanza, però io vorrei partire da oggi che Giorgio Meloni era a Malta con Macron e Ursula von der Leyen. Sta cercando di ottenere dei risultati sulla questione migranti, questione annosa, che però si ripropone sempre. Però lei nei giorni scorsi ha detto che ha una linea diversa anche dal Partito Democratico, cosa che ha fatto sollevare qualche mal di pancia all'interno del Partito Democratico. Qual è la sua strada, la terza strada per la questione migranti? Innanzitutto io ho detto da subito, per noi lo YouSoli non può essere la soluzione per l'Italia, perché siamo un paese di transito. Il fatto anche semplicemente di nascere sul suolo italiano, molti migranti vanno via, è un fatto occasionale. Siamo per lo YouSole. Vogliamo integrare i migranti e tutti i cittadini che vengono da fuori, ma dopo un ciclo scolastico, quando parlano la nostra lingua, quando conoscono le nostre tradizioni. E' la garanzia migliore per avere una comunità sempre più integrata. Ancora, io ho sentito dire che c'erano delle perplessità per quanto riguarda l'accordo con Sayed, dittatore o non dittatore. Se ci mettiamo a fare questi discorsi, gli accordi non li facciamo con nessuno. Io ho contestato non il fatto che sia stato perseguito un accordo con la Tunisia, ho contestato il fatto che le modalità con cui si è cercato di raggiungere quell'accordo. La goffaggine diplomatica, l'inesperienza, l'imperizia dimostrata da Giorgia Meloni, che ha cercato i riflettori, si è portata in Tunisia più volte, ci è andata con la Fondela e con Rutte, il premio orlandese, ha creato un meccanismo, da un lato ha coltivato una comunicazione spot pubblicitario, dall'altro ha considerato che così mettia in difficoltà Sayed. Io ho lavorato, l'ho detto più volte, con il premier tunisino durante i miei governi, ho lavorato sotto banco, ho lavorato in via riservata, con canali riservati. Però lei ha portato un po' il Movimento 5 Stelle un po' più a sinistra rispetto all'origine, le sue battaglie nobili sul salario minimo, su star vicino agli ultimi, il reddito di cittadinanza. Adesso sottolineare queste cose, qui qualcuno dice che è campagna elettorale, perché vuole distinguersi un po', però non fa bene alla ditta, come direbbe Bersani. Ma io non faccio parte della ditta, chiariamolo subito. Il Movimento 5 Stelle non fa parte di nessuna ditta, il Movimento 5 Stelle è un movimento che raccoglie una visione, nasce una prospettiva di assoluto rinnovamento, non è disponibile a fare accordi con nessuna ditta, a accordarsi per gestire il potere con nessuno. Noi portiamo avanti le nostre battaglie, vogliamo chiarimenti politici, vogliamo essere rispettati per le posizioni politiche che prendiamo. Se c'è qualcuno che avverte una lesa maestà e denota atteggiamenti arroganti, noi li rispediamo al mittente. Per noi... A chi si sta riferendo? Elicchlein o...? Beh, vedo delle reazioni nervose, mi sembrano anche quando leggo appunto di questi giorni, cioè noi non abbiamo offesso a nessuno, non ci permettiamo di offendere a nessuno, ma non permettiamo a nessuno che non ci sia un confronto e un chiarimento su quelle che sono le nostre posizioni politiche. Perché noi non andiamo avanti con chiunque sulla base di cartelli elettorali, andiamo avanti solo prendendo impegni chiari e trasparenti con i cittadini. Lo sa però che per vincere le elezioni bisogna prendere il 50% e nessun partito da solo può fare... È il modo migliore, guardi, per perdere le elezioni da un lato e secondo per il giorno dopo, semmai si riuscisse, diciamo come per una botta di fortuna, chiamiamolo così, ad andare a un governo per il giorno dopo deludere i cittadini. Questo paese ha bisogno... Ha sempre una botta di fortuna adesso? Voi e il PD andare al governo? Guardi, fuori di metafora o fuori di battute, secondo me l'unico modo che interessa il Movimento 5 Stelle è chiarire, ovviamente anche con eventuali compagni di viaggio, chiarire il percorso politico, progetti molto chiari, assumere impegni precisi con gli elettori e sapere il giorno dopo che si va a realizzare un programma che è stato anticipato in modo chiaro e costruito per tempo e anticipato agli elettori. Adesso le faccio vedere cosa ha detto. Anche scusi, le posso dire una cosa? È l'unico modo per far tornare i cittadini a votare, perché attenzione, la Milione è stata bravissima a costruire, quando era all'opposizione, un'immagine di coerenza, di forza politica. Che cosa ha fatto? Ha preso voti con precisi impegni, il giorno dopo che Senzaità Palazzucchi ha iniziato sistematicamente a tradire tutti quegli impegni. Ci sono tantissimi, a volte, foltafacce, sono così lunghi che non li elenchiamo. Cosa succede? Adesso la luna di miele ovviamente sta scemando. Beh, non tanto. C'è ancora un residuo significativo, lo riconosco anch'io. I suoi sondaggi dicono che è ancora alto. Per quanto riguardano i sondaggi, però attenzione. A prezzo di che cosa? Ci sono tanti cittadini, io li incontro, parlo continuamente, tutti i giorni, tanti cittadini addirittura l'hanno votata e non capiscono più nulla. Fra un po', non è difficile prevederlo, ci sarà una grande disaffezione che andrà ancora più ad alimentare che cosa? Il non voto. Il non voto. Allora, sì, perché il travaso è difficile che ci sia da destra a sinistra. Senta, le faccio sentire però le parole di Matteo Salvini sull'ONG. Sentiamo Salvini. Quando mi hanno detto che la Germania, e ripeto, non solo la Germania, ma altri paesi finanziano attività private, di associazioni private che collaborano alla gestione dell'immigrazione clandestina in Italia, non mi sembra rispettoso. Però collaborano anche con la Guardia Costiera, spesso su richiesta del stesso Stato italiano. Diciamo che se le ONG tedesche portassero gli immigrati in Germania, nulla a questio. Se li lasciano in Italia è un problema. È la Guardia Costiera che salva coloro che sono in mezzo al mare, però un 5% è salvato dalle ONG. E dice Salvini, la Germania finanzia un ONG che però scarica poi, con termini di questo genere, i poveri disperati in Italia. Io non ci sto. Lei è contrario a quello che sta dicendo Salvini? Allora, innanzitutto chiariamo, stiamo parlando solo di un 5%. Adesso, loro sono bravissi a trovare i capi espiatori. Prima era la Brigata Wagner, che evidentemente nel complottismo di questo sovranismo alimentava i flussi migratori. Poi se la sono presa con i commissari, con la Commissione Europea. Poi se la sono presa con Francia, adesso con Germania, adesso con l'NG. Stiamo parlando di 133 mila migranti sbarcati in Italia, e il 5% è stato portato dall'NG. Quindi stiamo parlando di una misura infinita. Quindi non solleviamo dalla responsabilità dei propri fallimenti questo governo. Detto questo, io non sono stato mai tenero con Francia e Germania. Però nei miei governi non è mai successo che in uno sbarco Francia e Germania non abbiano collaborato alla redistribuzione. Si chiede perché. Perché? Come mai hanno sempre collaborato? Prima perché Salvini ovviamente stava a parlare in tv, faceva esibizioni muscolari sui migranti che erano in mare, ma io lavoravo col mio staff sabato, domenica anche, notte e giorno, per poi coinvolgere sempre su ogni sbarco gli altri leader. Quindi mi sono dedicato a questo e dimostrando sin dall'inizio una certa coerenza, una certa credibilità nel perseguire evidentemente una politica migratoria che non era quella della propaganda di Salvini. Perché lui non avrebbe ottenuto nulla. Come adesso non stanno ottenendo nulla. Quindi da un lato si è lavorato sempre per questo e dall'altro ovviamente bisogna lavorare perché tu devi essere coerenti in Europa. Non puoi dire quando i polacchi e gli ungheresi si oppongono alla redistribuzione, fanno bene, tutelano il loro interesse nazionale. Ancora ieri c'è stata una riunione per quanto riguarda il Comitato Affari Interni dove partecipano i ministri degli interni. Il nostro ministro, rappresentante del governo italiano, si è presentato rispetto a un regolamento sulla crisi che riguarda proprio la gestione di ingenti flussi per le crisi e prevede una redistribuzione automatica dei migranti. È un'occasione favorevolissima per battere il pugno sul tavolo, farsi sentire, addirittura migliorarlo. Cosa ha fatto? È rimasto lì imbambolato. E imbambolato perché? Perché c'erano gli ungheresi e i polacchi che l'avevano bocciato. Quindi addirittura non abbiamo proferito nessuna parola. Si è alzato e è andato via il nostro rappresentante del governo. Mi ricorda tanto il nostro Salvini. Durante i miei governi, sono stati, non ricordo, 6, 7, 8 comitati degli affari interni, non ha quasi mai partecipato. Quindi i risultati venivano, ma venivano per il lavoro che veniva fatto senza non facendo dichiarazioni e slogan davanti alle telecamere. Non lo diceva quando lei era Presidente del Consiglio e lui era il suo ministro? Lavoravo, lavoravo concretamente. Quando sei Presidente del Consiglio, le divergenze interne cerchi di mascherarle. È evidente perché devi preservare l'interesse superiore. Però ci sono state delle occasioni, io ho fatto una conferenza stampa importante, dove ho detto così non andiamo avanti da nessuna parte e preannunciavo evidentemente l'esaurimento di quella pazienza di Giobbe. che poi si è vista in Parlamento in quel giorno famoso. Senta, parliamo di reddito di cittadinanza, perché da alcune settimane ci sono centinaia di migliaia di famiglie che sono senza niente, perché i corsi, i sussidi per la formazione, non sono ancora propriamente partiti, vedremo se partiranno. Ha sentito Tajani che diceva che poteva essere uno strumento, ma per come è stato fatto non ha funzionato. Diciamo che ridimensionare il reddito di cittadinanza, non cancellarlo, perché non è stato cancellato, è stato ridimensionato, è stato un punto della campagna elettorale che Giorgio Meloni ha portato a casa. Sentiamo cosa dice come novità il ministro Urso. Sentiamo Urso. Nella prima parte di quest'anno, in una condizione economica non facile, abbiamo toccato il record di occupazione. Sono stati creati quasi mezzo milione di posti di lavoro in più, il che vuol dire che si può dar lavoro a chi cerca lavoro. Che siano stati creati o che sia una congiuntura favorevole, c'è questo lavoro in più? Posso dire? Dica. Vorrei, se ci fosse qui il ministro Urso, direi Scusi, qual è la vostra misura, appena insediati, quindi qual è stata la vostra misura che avrebbe immediatamente favorito questi nuovi posti di lavoro? Stiamo parlando di un'eredità lasciata dai governi precedenti. Loro, in legge di bilancio scorsa, non hanno inserito nessuna misura di crescita e di investimenti, hanno campato di rendita e quando c'è stato ovviamente l'esaurimento, dopo due mesi che hanno adottato il decreto precariato, quello che chiamo il decreto precariato del primo maggio, abbiamo iniziato a vedere una grande flessione, oltre a cos'è 90 mila posti erotti, ricordo a memoria di posti che si sono persi di lavoro, quindi invece è iniziata una rotta negativa e assolutamente preoccupante per quel che succederà anche in quest'autunno. La verità, guardi, la dico in breve, se tu non prevedi nessuna misura di crescita, nessun investimento, prima avevamo il super bonus e transizione 4.0, abbiamo favorito il credito alle imprese offrendo la garanzia dello Stato, abbiamo creato un pacchetto di misure che hanno rilanciato, come ormai i telespettatori sanno, un più 12% di pilli, prima era 11%, più 12% di pilli in un biennio, abbiamo creato 100 miliardi in più di entrate fiscali per lo Stato, cioè quei tesoretti che Draghi prima e la stessa Meloni hanno distribuito. quella che era l'opposizione che adesso la maggioranza le dice che ha creato un buco col super bonus, però ne parliamo, no, del super bonus ne parliamo, io le voglio dire un'altra cosa. Non mi faccia, non mi provo. No, la provo invece. Senta, il ministro del lavoro Calderone ha detto, a fronte dei 180 mila nuclei familiari che non ricevono più il sussidio di cittadinanza, Saranno 240 mila a fine anno. A fine anno, 240 mila. Però dice la ministra, hanno fatto però richiesta di sussidio di formazione con i 350 euro al mese che vengono allegati, la media del reddito di cittadinanza se non sbaglio era 580, solo 41 mila persone. Allora la tesi che dice, la maggioranza è questa, se su 230 mila, 180 mila, solo 41 fanno la richiesta, allora vuol dire che o hanno trovato lavoro o erano fannulloni da divano. Questa è la tesi della maggioranza. Guardi, io credo che innanzitutto vedremo quando questi numeri si assesteranno. Oggi non sono significativi. Anche perché non possono esserlo dopo una campagna che ha criminalizzato i poveri. Giusto? Non la povertà, ma i poveri. Se però mi viene tolto un assegno, un sussidio, me ne offre un altro diverso, perché non mi scrivo, secondo lei? Guardi, in questo momento credo che sia grande confusione e un periodo di assestamento. Perciò dicevo, valuteremo poi i numeri quando si consolideranno questi dati. Adesso c'è di certo un dato. 240 mila famiglie a fine anno prive di un sistema di protezione, almeno strutturale come l'avamo pensato noi. Gli è stata offerta che cosa però? una social card che è un'elemosina. Parliamo di 380 euro elogati una volta per tutte. 380 euro quante volte ci fai la spesa oggi? Con un carrello della spesa è aumentato del 10%. Parliamo di genere alimentare. L'olio è più 34%. Col caro carburante fai un pieno e buona parte di questa somma va via. Come può con questa somma il governo pensare che una famiglia possa mantenersi nei mesi? Nei mesi. Cosa offrono in compenso? Offrono dei corsi di formazione. Ma attenzione, non è che io faccio il corso di formazione, durerà qualche mese, mi date 350 euro per un corso di formazione. Quindi pensi un po'. Se il corso di formazione non ce l'ho vicino a casa, già che mi devo trasferire per andare a seguirlo, i 350 euro al mese si bruciano. E io non ho di che vivere, di che sopravvivere. Questi 350 euro meritate solo per la durata quattro mesi del corso di formazione. Molte regioni non le hanno ancora attivate i corsi di formazione. E dopo che cosa succede? Al momento abbiamo per 240.000 famiglie circa 60.000 o poco più offerte di lavoro su una piattaforma. Senza tener conto che molte delle offerte di lavoro si concentreranno in aree particolarmente sviluppate del paese. E quindi non ci sarà una corrispondenza tra le richieste di lavoro e le offerte. Non si distribuirà in modo omogeneo. Intere aree, pensiamo al centro, a sud, le aree anche più disagiate del nord dove non c'è il lavoro, che cosa faranno? Abbiamo 75% di quei nuclei familiari, noi parliamo di 240.000 nuclei familiari, che rimarranno senza neppure possibilità di un'offerta o ad alcuni verrà prospettato un'offerta che ovviamente comporterà il trasferimento di un'intera famiglia. Le prevede disagi sociali tra qualche mese su questa cosa? Ma io prevedo tanti disagi sociali. Questo governo ha voluto combattere con furia ideologica famiglie che sono in difficoltà, famiglie più fragili. Noi possiamo dire, lo dico sindore, che ovviamente ci adopereremo, speriamo presto, perché di poter intervenire per continuare un percorso di giustizia sociale. Guardi, io dico solo una cosa, un paese che non si preoccupa delle persone che sono in difficoltà, che vivono il disagio, oggi anche il ceto medio in Italia si è impoverito, caro Mutui, caro bollente, caro carburante, caro spesa, eccetera. Un paese che non si preoccupa di questo, dove stanno crescendo le diseguaglianze, non vive bene. Ci sono dei paesi nel mondo e l'Italia non era tra questi, in cui le fasce più agiate della popolazione sono costrette a circolare con sorveglianza privata 24 ore su 24. Noi non vogliamo vivere in quel paese, noi vogliamo che le persone agiate possano assolutamente migliorare la loro condizione, lavorare da loro e godersi la loro ricchezza e non debbano vivere separate. Però dobbiamo preoccuparci anche di chi sta peggio. Sì, e infatti il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto quasi da tutti come ottimo ammortizzatore sociale, poi sulla filosofia del farlo si è dibattuto molto, però molti dicono che invece sulle politiche attive non ha funzionato, nonostante lei abbia messo un miliardo per implementare gli uffici di colpamento. Aspetti per una cosa, domanda è questa, non è che ci sono delle sciocchezze che vengono dette e creano aspettative, cosa ha pensato quando Di Maio andò su quel balcone dicendo abbiamo abolito la povertà? Cosa ha pensato lei intimamente? Ma io non ho mai pronunciato una formula del genere. Cosa ha pensato quando l'ha sentita dal suo ministro? No, ho pensato guardi, adesso è facile dirlo ma insomma questo governo fa continuamente ogni giorno spot pubblicitari. Quella formula è stata una formula diciamo così non propriamente felice ma voleva nascondere il fatto che per la prima volta e questa è la realtà guardiamo la realtà per la prima volta in Italia grazie al Movimento 5 Stelle si è introdotto una riforma strutturale per venire incontro al disagio di famiglie che venivano in condizione di assoluta povertà è questo che deve fare la politica perché se la politica non fa questo basta l'economia basta la regola del libero mercato per cui si creano diseguagliarze arricchimenti e ingiustificati impoverimenti. Adesso cercherò di farle innervosire ancora di più perché le faccio sentire cosa ha detto il ministro Giorgetti sul super bonus che è un po' sul banco degli imputati per questo ritocco di deficit la colpa del super bonus Senta Giorgetti Per quest'anno l'indebitamento netto dall'obiettivo del 4.5 sale al 5.3 l'aumento è ascrivibile praticamente per lo 0.9% dagli effetti di contabilizzazione per competenza del super bonus dei bonus edilizi questo significa che in assenza di questa contabilizzazione avremmo raggiunto l'obiettivo dichiarato il 4.5% in sede di DEF Queste le parole del ministro le faccio leggere le parole di un altro ministro che è stato il ministro dell'economia con lei presidente del consiglio che è Giovanni Tria legga super bonus politica eversiva e criminale parola alla difesa Le parole del ministro Tria preferirei non commentarle ma io te lo chiedo però di commentarle perché diciamo perché è stato ministro dell'economia nel primo governo Conte e diciamo che andava un po' spinto e rianimato quando si trattava insomma di programmare delle misure di crescita e si trattava come dire di costruire un percorso per quanto riguarda anche politiche espansive che ci facessero crescere è stato ma un cordileone però lasciamo stare polemiche personali a me non interessa io direi semplicemente al ministro Giorgetti l'abbiamo incontrato l'ho incontrato io con degli esodati del super bonus cioè imprenditori rappresentanti di questo mondo che è in difficoltà l'abbiamo incontrato prima dell'estate ci ha promesso una misura per liberare quelli che sono i crediti incagliati il governo lo deve assolutamente fare sono famiglie imprese in difficoltà ha promesso che avrebbe ha promesso davanti a testimoni che avrebbe adottato misure per far circolare questi crediti incagliati si tratta guardi di imprese che stanno fallendo e famiglie bloccate peraltro non fa bene all'economia che non circolano questi crediti come era stato programmato perché lei sa benissimo e veniamo qui non c'è nessun buco di bilancio perché se no andrebbero arrestate tantissime persone anche il governo precedente a quello di Meloni quindi sono stupidaggi dette che tra l'altro un presidente del consiglio dovrebbe se non altro come dire prima di parlare in questi termini fai un attacco politico per carità cerca il capo espiatorio sappiamo che non riesci a come dire a trovare la forma per costruire una manovra credibile e mantenere gli impegni che hai preso i cittadini trova pure questo capo espiatorio ma non dire sciocchezze perché poi i mercati finanziari ti ammazzano tu hai una responsabilità di governo del paese intero non puoi andare a dire tu che i nostri dati contabili sono truccati c'è un artificio contabile ed è nascosto un buco perché ancora adesso che hanno approvato la Nade questo buco non c'è la realtà è che non ci sono misure per la crescita non ci sono misure per gli investimenti non ci sono misure efficaci per quanto riguarda le difficoltà dei cittadini ora un governo è chiaro che deve far quadrare i conti dello Stato ma deve far quadrare i conti delle famiglie e deve favorire la crescita perché ormai ce l'hanno insegnato in tutti i modi dopo quei dogmi sulla austerità oggi si è capito che l'Italia in particolare se vuole contenere il debito l'unica possibilità che ha anziché strozzare qualsiasi prospettiva di crescita e di sviluppo sociale loro se non sono d'accordo con le nostre misure ne mettano sul piatto delle altre ma se hanno visione coraggio ed è lo dicano ma non possono condannarci all'auto-elezionismo mi dice una cosa che la distingue dal partito democratico che al contempo sarà uno dei punti del Movimento 5 Stelle del futuro perché il Movimento 5 Stelle del passato aveva dei punti chiarissimi adesso lei ha preso un'area politica in aiuto agli ultimi e quella è chiara mi dica un punto che la distingue dal PD e che sarà un punto fondante del 5 Stelle del futuro guardi a parte che ogni volta che mi chiedete quali sono i punti che vi differenziano dal PD sembra che io voglio far come dire marcare assolutamente se no se vi sovrascrivete sul salario minimo poi domani mattina ci diranno che io attacco il PD però ovviamente non mi sottraggo perché questa anzi io credo che abbiamo il dovere di essere trasparenti con i nostri elettori e qui non si tratta di andare alla ricerca di consenso elettorale qui si tratta di definire il nostro percorso politico le nostre posizioni sulla guerra emersa una visione completamente diversa rispetto al PD e anche il PD di Schlein rispetto a quello di Letta non ha segnato nessun concreto nessuna concreta svolta rispetto al conflitto e noi avevamo ragione avevamo ragione perché ma lei che è stato a Palazzo Chigi mi permetta quest'ultima cosa che stiamo già sforando lei che è stato a Palazzo Chigi è realistico essere a Palazzo Chigi in questo momento e dire non inviamo più armi assolutamente sì sarebbe stato realistico sin dal primo momento dire a tutti gli alleati signori l'Italia per la sua tradizione per la sua capacità di dialogo aiuterà tutta la coalizione saremo il frontman il front country per quanto riguarda la svolta negoziale voi volete concentrarvi per quanto riguarda gli aiuti militari benissimo noi possiamo come abbiamo detto con grande tormento perché la mia base ha avuto un reale tormento questi non sono tatticismi abbiamo visto sondaggi la mia base ha una vocazione pacifista vera allora noi abbiamo colto questo con grande tormento però io ho detto adesso per quanto riguarda l'aiuto iniziale c'è una tale asimmetria che la Russia rischierebbe di invadere in poche settimane ovviamente rende molto più difficoltoso il negoziato la fase iniziale benissimo le aiutiamo ma io mi sarei posto alla guida di quel negoziato con la nostra capacità la nostra tradizione di dialogo anche che abbiamo con la Russia avremmo potuto dare un aiuto ben più importante alla coalizione se lei fosse a Palazzo Chigi direbbe no invio di nuove armi assolutamente grazie presidente prego bocca al lupo buon lavoro